Sindaco, i numeri della Valfino sono numeri sicuramente preoccupanti, inquietanti. Lei diceva prima, ricordava giustamente il suo comune, Elice, 6 positivi, 30 famiglie in quarantena, su uno totale di 1800 residenti. Insomma, io faccio presente sempre l'appello che abbiamo fatto pochi giorni fa per così arginare questa zona, senza allarmare nessuno, ma questo è di garanzia, di sicurezza sia per noi cittadini, non solo di Elice ma della vallata, ma anche come spirito di altruismo nei confronti degli altri paesi, delle altre comunità che sono intorno a noi, in modo tale da non far uscire questa, è brutto usare pandemia, ma purtroppo anche se qui a Elice ci sono stati fino adesso solo 6 casi, ma in proporzione, in percentuale, comunque è una percentuale abbastanza alta. Abbiamo anche 30 famiglie in quarantena, pare che tende anche ad aumentare, quindi vogliamo che questa diffusione non esca fuori, qui nella vallata del Fino comunque ci sono tante realtà commerciali, attività artigianali, industriali eccetera, che nella mia zona io prima di aspettare che magari avvenga un nuovo decreto più restrittivo, ho allertato telefonicamente tutte le mie aziende e comunque devo dire e le ringrazio che mi hanno dato ascolto nel chiudere proprio i loro esercizi. Eventuali misure ancora più dure, come la chiusura proprio di queste zone in ingresso e in uscita, sono misure che potrebbero essere accolte positivamente dalla popolazione? La popolazione, la cittadinanza è d'accordo con ulteriori misure restrittive? Sicuramente saranno d'accordo, per fare in modo da uscire da questo problema le misure devono essere queste, c'è poco da discutere.